Quel giorno Gesù uscì di casa e andò a sedersi in riva al lago per insegnare. Attorno a lui si radunò una folla tanto grande che gli salì su una barca e si sedette. Tutta la gente rimase sulla riva. Gesù parlava di molte cose servendosi di parabole. Diceva Un contadino andò a seminare e mentre seminava alcuni semi andarono a cadere sulla strada. Vennero gli uccelli e li mangiarono. Altri semi invece andarono a finire su un terreno dove c'erano molte pietre e poca terra. Cermogliarono subito perché la terra non era profonda ma il sole quando si levò bruciò le pianticelle ed esse seccarono perché non avevano radici robuste. Altri semi caddero in mezzo alle spine e le spine crescendo soffocarono i germogli ma alcuni semi caddero in un terreno buono e diedero un frutto abbondante cento o sessanta o trenta volte di più chi ha orecchi cerchi di capire